Da una parte le bombe russe, dall'altra un muro di restrizioni. Kiev protesta contro la possibile decisione dell'Unione Europea di estendere le restrizioni sulle esportazioni del gran ucraino per proteggere gli agricoltori di Polonia, Bulgaria, Ungheria, Slovacchia e Romania. Da quando Mosca si è ritirata dagli accordi sul grano, ha colpito silos e strutture portuali ucraini, minacciando le navi in transito sul Mar Nero. Netta la condanna degli Stati Uniti. Il segretario generale delle Nazioni Unite ha ricordato le conseguenze per i paesi poveri. In una settimana il prezzo del grano è salito del 14%, quello del mais del 10%. Grazie.